Anche un viaggio di mille chilometri inizia con un passo. Una bascula del ponte di Londra potrebbe far finire il viaggio. Vuoi un fallimento per evitarlo? Speravo fossi più coraggiosa. Speravo fossi più coraggiosa. Speravo fossi più coraggiosa. Speravo fossi più coraggiosa. Gli adulti aggrediscono i bambini con quell'adagio. Di solito lo fanno con una pipa in bocca. Non ti chiederò di espirare. Lascia che il fumo ti avviluppi.